salve ragazzi cari amici del web siamo arrivati alla dogana con il brunet siamo in malesia più esattamente ci troviamo passato miri alla dogana col brunet questo qui il controllo passaporto come vedete una struttura modernissima enorme niente a che vedere con le strutture analoghe che abbiamo visto per entrare in russia il nostro viaggio continuo